Si arricchisce di una partnership importante il progetto di welfare innovativo per la cura a domicilio degli anziani fragili, denominato A Casa Tutto Bene, per ora attivo nei mandamenti di Sondrio e Morbegno. Si tratta di quella con Valcura, cooperativa dei medici di base presente in Valtellina con 68 associati e una platea di 22.000 utenti seguiti. Preseduta da Giampiero Frassi, la cooperativa che nei soli territori di Sondrio e Morbegno conta 37 associati, consente grazie ai medici di base e alle famiglie che vi si rivolgono di entrare in contratto con il progetto che si rivolge alle situazioni in cui gli anziani iniziano a perdere qualche grado di autosufficienza, con un approccio delicato, meno intenso rispetto ad esempio alla presenza di un abbandante fissa oppure a ricovere una struttura per le quali peraltro esistono liste d'attesa proibitive. Spesso bastano i postumi di una brutta caduta o di un intervento e vivere a casa da soli o con il coniuge magari a propria volta non in forma apre all'improvviso un problema di gestione dei propri cari che necessita soluzioni efficaci e in tempi brevi. Come Valcura, aggiunge il dottor Frassi, abbiamo creduto da subito alla bontà di questo approccio più dolce, alla possibilità di mantenere le persone anziane al proprio domicilio, cosa che tra l'altro in molti casi può evitare anche l'aggravamento delle loro condizioni. Per questa ragione abbiamo aderito volentieri alla rete offrendo la nostra collaborazione. Avere una rete continua in cui ciascuno fa la propria parte è fondamentale sempre, a maggior ragione in casi che riguardano la fragilità dei nostri anziani.